San Gregorio Magno, un vero pastore, nacque a Roma verso il 540, entrato nella carriera politica, raggiunse la carica di prefetto dell'Urbe. Abbracciò poi la vita monastica, fu ordinato diacono e fu legato pontificio a Costantinopoli. Il 3 settembre del 590 fu elevato alla cattedra di Pietro e si dimostrò vero pastore nel disimpegno del suo alto ufficio. Ma specialmente nella cura dei poveri. Si dedicò con zelo anche alla diffusione della fede. Fra le tante occupazioni trovò anche il tempo per scrivere molti trattati di morale e di tologia. Morì il 12 marzo del 604. A lode di Dio.